è ufficiale signori 6 squadre in due punti in due punti 6 squadre in due punti dopo l'1-1 di stasera tra l'altro bella partita mi sono divertito da matti perché comunque ritmi altissimi diciamo che poteva in generale entrambe le squadre potevano essere un pochino più concrete sotto porta questo forse è mancato principalmente al Napoli ma anche all'Inter soprattutto nel secondo tempo perché l'Inter forse visto anche il risultato finale sul tabellino ha forse qualche rammarico in più rispetto al Napoli perché effettivamente soprattutto nel secondo tempo c'è stata una predominanza dell'Inter che comunque ci ha provato molto di più il Napoli provava nelle ripartenze ma l'Inter cercava diciamo un pochino di più la via del gol per cercare appunto il vantaggio del 2-1 perché poi a fine primo tempo si sono ritrovati 1-1 con il gol di McTominay da una parte e il pareggio, bel pareggio insomma ma è sempre il grande gol tanto ce l'ho mai banale dell'1-1 e poi c'è il rigore che tra l'altro io ho sentito un monte di opinioni insomma anche Pardo, Marelli dire no ma il contatto l'è leggero ma gli tira una pedata nella caviglia io non capisco per me è un rigore nettissimo cioè vabbè per me sono altri contatti leggeri ai rigorini che magari sono stati dati questo per me è netto però vabbè ok magari l'ho visto male che vi devo dire a me sembra una pedata sulla caviglia a Danfries abbastanza netta cioè niente veramente da eccepire e Cialanogo dal dischetto e che fa tanta notizia sbaglia se non sbaglio mi sembra di aver capito il primo rigore in Serie A perché effettivamente Cialanogo che sbaglia un rigore non ne avevo ricordo da stasera sì che tra l'altro prende un palo devastante uno dei suoi tiri a incrociare rigori a incrociare prende un palo che fra un po' arriva al centrocampo e addirittura al novantatreesimo c'è il Napoli che avrebbe rischiato addirittura di vincere la partita con Ngong appena entrato che si smarca salta non mi ricordo chi c'era della forza d'armiano a Cerbia a marcarlo a uomo la mette nel mezzo e Simeone che la tira alta di pochissimo ma sarebbe stato un gol incredibile cioè nel senso che comunque avrebbe ribaltato una partita che praticamente era finita cioè da lì da dieci minuti praticamente sembrava che comunque il risultato finale sarebbe stato una 1 e quello sarebbe stato una beffa senza senso diciamo che alla fine è il risultato più giusto perché comunque entrambe le squadre hanno avuto dei ritmi alti in varie fasi della partita tra primo e secondo tempo sono state poco concrete secondo me sottoporta però ci sono anche da segnalare comunque a parte la poca concretezza il fatto che comunque i centrali sia da una parte e dall'altra hanno già fatto molto bene buongiorno una signora partita ma anche dall'altra parte a Cerbia una signora partita insomma diciamo che in generale le due difese non si possono lamentare i due attacchi un pochino forse qualche cosa da ridire ci avrebbero perché effettivamente io soprattutto l'Inter mi ricordo dei contropiedi veramente buttati cioè dove c'è Turam e Lautaro magari due contro due che Turam ci incischia ad allarga la palla Di Marco che se ne trova altri tre addosso perché hanno perso otto tempi di gioco cioè robe del genere quindi comunque secondo me l'Inter stasera avrebbe potuto essere molto più incisiva sottoporta probabilmente anche la stanchezza perché il Napoli non ha giocato tra settimana quindi anche quello comunque c'è da considerarlo effettivamente diciamo che in generale è stata una bellissima partita mi sono divertito a me e al resto della Serie A penso vada bene così perché un campionato ragazzi così equilibrato era veramente anni che non lo vedevo forse penso di non averlo mai visto un campionato così equilibrato dove effettivamente non c'è una vera squadra ad oggi perlomeno sembrava fosse il Napoli ma il Napoli ve l'avevo detto anche diversi video fa ci aveva avuto culo contro l'Empoli uguale contro il Lecce insomma quelle vittorie comunque per 1-0 tirate molto molto tirate c'è un'Atalanta che vola c'è la Lazio che sta facendo un campionato lamoroso ci siamo noi che siamo la vera e propria sorpresa effettivamente di tutto questo campionato c'è la Juventus che comunque rimane lì e come sempre c'è l'Inter che alla fine rimane la rosa più forte della Serie A e su questo penso non ci siano nessun tipo di dubbio io perlomeno non lo metto in dubbio questa cosa qui sarà un bellissimo campionato stasera comunque mi aspettavo io speravo nel pareggio proprio per in primis per dire sono a un punto a un punto dal primo posto sono a un punto dal primo posto e secondo anche perché così almeno si rende il campionato più avvincente bello finalmente che non c'è quella da sola in fuga e c'è uno stacco tra la prima la seconda o la terza di 10 punti e vaffanculo almeno sono belle da vedere tipo tutte le partite almeno il famoso spezzatino di partite sono belle da vedere tutte hanno un senso tutte da vedere perché almeno anche stasera io per esempio mi sono visto la mia partita mi sono ripreso la partita della Roma mi sono visto la partita dell'Atalanta di mezzogiorno mi sono visto la partita della Lazio delle 6 e mi sono visto questa partita stasera oggi ho passato una giornata a guardare partite e mi sono divertito perché effettivamente sono state tutte belle partite e perché appunto ci avevano anche un fine proprio anche di vedere come si sarebbe trasformata la classifica alla fine di questa giornata bella, bella, sei squadre in due punti bella roba, bella roba, bella roba bravi ragazzi, bravi, bravi, bravi tutti bella roba, bella roba, bella roba, bella roba